Buonasera. Allora, la Ternana stasera ha vinto. Il calcio è strano, eh? Chissà quante volte abbiamo convinto, ma non abbiamo vinto. Oggi non abbiamo convinto, però abbiamo vinto. Servivano i tre punti e questa è la sintesi della partita. Sicuramente abbiamo visto delle prudezze. Iannarilli ha confermato di essere una persona importante in questa squadra e Pettinari ha fatto un gol veramente stupendo. Per il resto abbiamo vinto, ma non convinto. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.